Un benvenuto a tutti da parte del gruppo Zatti e TuttoMotori, io sono Fabio Ardiani e oggi siamo presso la nostra sede di Reggio Emilia, da dove vi presenteremo alcune delle nostre vetture. Abbiamo uno stock di circa 400 macchine tra aziendali, usato e chilometro zero. Ora passiamo alle auto. Cominciamo con una Peugeot 208, 1200 benzina allestimento Allure. L'auto è un cambio manuale, schermo touch, cerchi in lega e fari full led e potrà essere vostra a 18.500 euro chiave in mano. Continuiamo con una Kia Stonic 1.6 diesel allestimento Style, 110 cavalli 2019. L'auto sempre cambio manuale, fari full led, fendi in ebbia e telecamera di parcheggio e potrà essere vostra a 16.800 euro chiave in mano. Siamo ora di fronte alla piccolina di Toyota, la Toyota Ego, 1.000 benzina da 72 cavalli, allestimento Style. L'auto è dotata di ADAS, frenata di emergenza e rilevamento di corsia, fari full led, cerchi in lega e telecamera di parcheggio e potrà essere vostra a 13.500 euro chiave in mano. Prosioghiamo con la sorella, Toyota Yaris, 1.500 benzina allestimento Style, 116 cavalli. L'auto cambio automatico, telecamera di parcheggio, schermo touch, aux, usb e bluetooth e potrà essere vostra a soli 21.900 euro chiave in mano. Ah, dimenticavo, la vettura ha solo 16.500 chilometri. Concludiamo con la gamma Toyota, Toyota CH-R, 2.180 cavalli full hybrid, l'auto a 60.000 chilometri, allestimento Style, cerchi in lega, cambio automatico, telecamera di parcheggio e fari full led e potrà essere vostra a 27.500 euro chiave in mano. Passiamo ora in casa Fiat, con questa Fiat 500X benzina GPL, 1000 Turbo. L'auto cambio manuale, schermo touch, aux, usb e bluetooth come connessioni, volante multifunzione e potrà essere vostra a 18.900 euro chiave in mano. Concludiamo con questa Fiat Tipo 1.600 Turbo Diesel Station Wagon, l'auto a 43.000 chilometri ed è dotata di schermo touch, cerchi in lega, telecamera di parcheggio, fari full led e volante multifunzione e potrà essere vostra a 20.100 euro chiave in mano. E ora non vi resta che venite a trovare nelle nostre sedi, seguiteci sui social e visitate il nostro sito www.gruppozatti.com. Un saluto a tutti da parte del Gruppo Zatti e Fabio Ardiani.